Sono Roberta Ferrara, presidente della Proloco di Termini Merese. Quest'anno per la prima volta la Proloco metterà su strada il suo primo carro in collaborazione col comitato Sede Carnival. Siamo un gruppo dai 25 ai 30 ragazzi che sta lavorando giorno e notte alla realizzazione di questo magnitico carro. Buonasera a tutti, io sono Dendigo Cascio, sono il presidente di Sede Carnival, un'associazione che opera nel 2017 con l'appoggio anche della Proloco. Il caso del tema circo, si chiama Clown City. Non vi dico altro.